In questo momento ho ritenuto che le funzioni di Presidente del Municipio intendo mantenerle e decideremo poi insieme con la Giunta quali saranno i passi successivi. Credo che le riunioni settimanali della Giunta qui a Ostia abbiano un suo valore pratico e anche simbolico. Ma per quale motivo c'è così tanta difficoltà a trovare un delegato? Abbiamo sentito che non vogliono venire ad Ostia? No, forse non siamo riusciti a capire. È esattamente l'incontrario. C'è la volontà di avere la figura apicale dell'amministrazione di Roma, che è il sindaco, che gestisce una situazione che era veramente importante, seria e richiedeva la massima attenzione. Per questo abbiamo spostato a Ostia tutti i nostri uomini e le nostre donne migliori, sia per quello che riguarda le cariche amministrative, sia per quello che riguarda la Polizia di Roma Capitale, sia per quello che riguarda la Giunta Capitolina che si riuscì qua. E per quanto riguarda la Giunta Capitolina fino a 4? Quali saranno i termini di questo? Non leggo al futuro, se no avrei fatto la Chiromanca e messo un banchetto a Piazza Navona, ma un altro tipo di formazione scientifica che si basa su dati scientifici. Ha un obiettivo? L'obiettivo di riportare la legalità, la trasparenza e il rigore amministrativo. Grazie.